Saliana Bonavita, Alberto Dauria, Davide De Martino, Walter Esposito, Anna Teresa Falciglia, Marika Fermicola, Iginio Garofalo, Ilaria Gaiola, Gianni Giuliano, Angelo Maddalo, Luigi Maiorano, Maria Mascia, Antonio Montella, Patrizia Quaranta. Invito i candidati ovviamente a mettersi a semicerchio in maniera tale che diamo anche il benvenuto a colui che in queste settimane non ce l'ha bisogno di girare perché lo conoscete tutti. Io ho avuto modo di conoscerlo in queste settimane, una persona per bene, una persona educata, una persona che non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di offendere per dire le cose. Io invito sul palco il candidato a sindaco della lista cittadini in primo piano, Rolando D'Alessio! Buonasera! Rolando ti lascio all'applauso di questa bella piazza, questa piazza calorosa, facciamo sentire ancora più il calore! Dicevamo un programma, questo Rolando dopo ci spiegherai anche le tue emozioni, quello che hai provato ad incontrare le persone che ti hanno parlato di tante cose e quindi anche ti hanno chiesto tante cose, quindi analizzeremo meglio questa situazione, questa bella realtà, una realtà fatta di tante potenzialità. Dicevamo, stasera parleremo brevemente di alcuni dei punti programmatici più importanti che ovviamente sono stati istilati da un pool di professionisti attenti, di persone che hanno fatto analisi di fattibilità, che sono entrate in simbiosi perché, ripeto, come ho detto all'inizio, vivono questa comunità, conoscono questa comunità. E quindi io ovviamente inviterò parte chiaramente dei candidati che ci spiegheranno brevemente, ovviamente in sintesi, io prego i candidati di essere...